Sì, buon pomeriggio. Volevi dire che ho tagliato i capelli? A parte le zozzerie. Mamma mia che schifo. Dai, finiscila, guarda questi cretini. Sono veramente dei cretini. Ne so qualche cosa. Ogni tanto vada intuito sulle domande. Mi va a scatti. Buio. No, non hai capito, se io parlo mi sto risentendo, il ritorno mio. No, questo per me è l'unica cosa che io proprio non riesco a fare. Il mio ritorno mi distrae, è una cosa storica. Allora, andiamo bene perché io non sento nulla. Carlo. Ma hai mai visto guarda quello? Un secondo, mi tirate sul ritorno audio che non sento nulla. Allora. Allora. E allora. funzionale.